uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone daie oee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi oramai le notizie continuano ad uscire come se fossero non lo so dei petardi sparati a capodanno l'ultima notizia di poche ore fa che è veramente assurda sembrerebbe mostrare una nuova mappa in arrivo nella season 10 e un tweet di fortnite di poche ore fa sembrerebbe proprio confermare questa teoria il video di oggi ragazzi parlerà appunto di questa nuova mappa con delle immagini assurde ma parleremo anche del compleanno di fortnite probabilmente oggi o domani domani è il giorno ufficiale del compleanno arriveranno le sfide e ovviamente ci saranno su questo canale i video tutorial per completarle nel migliore dei modi e quindi portarsi a casa un bel po di premi proprio gratis e tra l'altro ragazzi attenzione modifica importante come vi anticipavo questo sarà un video molto interessante perché per gli utenti di pc dovrà dovrà forse essere necessario un upgrade per alcuni di voi quindi state attenti perché merita davvero tantissimo prima però voglio ringraziare tutti quelli che mi supportano con il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza con il mio codice mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live prima qua ce l'ho ragazzi ho una domanda da farvi ho paura a farvi questa domanda ragazzi ho paura non fate i matti nei commenti la domandina di oggi è molto semplice ragazzi ma la vorresti una nuova mappa nella season 10 secca così volete la mia no io non vorrei una nuova mappa della season 10 vorrei degli update degli upgrade e delle modifiche alla nostra mappa di fortnite come già vi ho anticipato qualche giorno fa troppi ricordi legati ai vari eventi in tutte le season che ho vissuto di fortnite dalla prima alla decima quindi ragazzi personalmente no fatemi sapere invece nei commenti qui sotto le vostre idee ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito allora a vedere questa immagine incredibile la nostra mappa la conosciamo oramai a memoria è stata modificata a destra a sinistra da ovest a est da nord a sud ma guardate questa immagine assurda siamo nei preparativi per la world cup come vedete c'è un tester che sta appunto provando e su quello schermo si vede una cosa incredibile la mappa di fortnite con qualcosa di molto strano mettiamole un attimo a confronto guardate ragazzi sopra di me la nostra mappa alla vostra destra la mappa nuova la zona che c'è tra il deserto e fino ad arrivare a laguna languida non è assolutamente uguale a quella che stiamo vedendo comparata con la nostra mappa perché non può essere un riflesso siccome se notate bene tra il bioma del ghiaccio e il bioma del deserto si vede benissimo tutta la parte verde che è praticamente questa ok ma là in alto dove c'è i grandi magazzini il rifugio ritirato il vulcano anche laguna languida scalini scatenati non c'è assolutamente un filo di verde ragazzi ed è una cosa incredibile si può notare che il vulcano sicuramente c'è ancora perché la scia di lava si nota benissimo è gialla ed è davvero quella per forza ma non si vede più ad esempio il laghetto di laguna non lo vediamo e tra l'altro vediamo proprio alla fine del bioma del deserto del ghiaccio un qualcosa di rosa che io non capisco che cosa sia ragazzi questa è un'immagine incredibile merita like merita il like vediamo ovviamente cosa succederà nei prossimi giorni e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi parliamo ovviamente di uno degli update più attesi che è l'inserimento del nuovo fucile da cecchino la descrizione ci dice sapere è potere avvantaggiati sugli avversari con questo fucile di precisione con rilevatore meteorologico secondo me ragazzi il rilevatore meteorologico non è altro che uno strumento che già abbiamo visto con nella skin non mi ricordo il nome insomma con il backpack quello che rileva la tempesta anche perché non è che mi fai un'arma che mi dice se piove o se c'è il sole penso che si tratti appunto di come andrà la tempesta il problema che c'è con questo cecchino non esistono ancora gameplay non esistono ancora statistiche quindi in realtà non è ancora fisicamente in gioco l'arma o forse è stata inserita con l'update di ieri perché c'è stato un update inaspettato potrebbe in realtà già essere stata buttata dentro ma ancora criptata il problema che sta sorgendo ragazzi riguarderà proprio le world cup perché c'è una diatriba abbastanza interessante non è che adesso i giocatori avendo un cecchino in più e sembrerebbe con una certa potenza giochino in vantaggio con il double check stavo leggendo che su reddit si sta un pochettino movimentando l'argomento quindi ovviamente se ci saranno delle modifiche staremo a vedere e non sappiamo ancora se questo cecchino verrà proposto proprio nella world cup ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento ed eccolo qua importantissimo per tutti i giocatori di pc after seasons 10 launch you'll need a graphic card that meets the minimum requirements in order to play fortnite cosa vuol dire vuol dire che con il lancio della stagione numero 10 dovrete controllare se avete una scheda grafica datata perché non funzionerà fortnite non allarmatevi ragazzi voglio spiegarvi molto meglio la cosa allora vi faccio vedere intanto il mio desktop meraviglioso ragazzi bianco il mio desktop perché mi serve per per la luce come fare a scoprire se la vostra scheda funziona molto semplice andiamo sulla barra degli strumenti quella in basso clicchiamo dove c'è la barra bianca o dove comunque potete fare una ricerca e scrivete di x di i a g di x di ag una volta che cliccate su questa applicazione io non la apro perché ci sono delle informazioni personali che ovviamente vengono viste una volta che cliccate su quell'applicazione noterete subito nella prima finestra un po di informazioni sul vostro computer guardate l'ultima voce e leggete la direct che utilizza il vostro computer se state utilizzando una direct 11 o più non avete problemi non abbiate paura perché comunque le direct 11 c'erano già da windows 7 quindi in teoria non è secondo me il vostro caso se non state utilizzando invece una direct 11 dovete cambiare scheda video quindi potete comunque tranquillamente trovare schede datate che supportano la direct 11 e quindi giocare al cento per cento a fortnite nella season numero 10 chiudiamo ragazzi il video di oggi invece parlando velocemente del compleanno bellissima l'immagine dell'ama arriva da un sito cinese che ci informa appunto dell'arrivo del compleanno di fortnite il secondo compleanno che vi ricordo porterà con sé anche tutte le sfide che regaleranno il piccone con il pezzo di torta la skin per i veicoli e per le armi la musica di sottofondo a tema del compleanno lo spray e l'emoji le possiamo vedere molto rapidamente questo è lo spray questo invece è l'adesivo quello che si può utilizzare il piccone lo conosciamo tutti e la skin per le armi non ho l'immagine in realtà della del background musicale perché non l'ho ritenuta così interessante interessante è invece quest'ultima immagine che vi faccio vedere sembrerebbe che torni la skin del del come si chiama ne non mi ricordo come si chiama ma era su save the world proprio per il compleanno la ricordo l'anno scorso in questa immagine è in battle royal quindi probabile che nel negozio del 24 magari troveremo anche la skin del compleanno di fortnite io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live alle 8 ciao iscrivetevi al canale